Il sistema multimediale integrato ANTOS è semplice ed immediato. Aiuta a velocizzare il workflow ed aumentare la vostra produttività. Per ogni paziente, lo storico delle immagini si recupera immediatamente. Con chiavetta USB, le immagini presenti si visualizzano automaticamente. Con un clic, la stessa immagine si vede contemporaneamente su monitor integrato. L'accesso al database dei pazienti è diretto con il software IRIS, in dotazione con telecamera e sensore radiografico. In cima alla lista, compare il nome del paziente in questione qualora la cartella sia stata appena consultata. Sotto compare la cronologia degli ultimi pazienti. L'acquisizione delle immagini tramite telecamera e sensore è semplice e molto veloce. Applicare sempre la protezione monouso alla telecamera. Le riprese si visualizzano contemporaneamente sui tre dispositivi. Modifica intensità dei LED alla telecamera. Dalla console si può regolare la temperatura di colore dell'immagine. Premendo più volte, si passa da tonalità fredde a calde. Attivare funzione Mirror. È possibile acquisire il fermo immagine in due modi. Da manipolo. Da pedale. Estrarre il sensore per procedere all'acquisizione della radiografia. Applicare sempre la protezione monouso. Una volta acquisita, la radiografia compare contemporaneamente sui tre dispositivi. Prima di salvare, si può anche regolare la luminosità delle immagini. Gestire l'intero processo tramite la console full touch è semplice ed immediato. Per salvare le immagini, il medico ha tante opzioni, anche in assenza del PC. Su chiavetta USB. Salva. Salva. Seleziona cartella. Conferma. Su memoria locale del full touch. Salva. Seleziona destinazione. Seleziona cartella. Conferma. Su PC tramite software IRIS. Salva. Lo stesso elenco compare su full touch e PC. Seleziona cartella. Controlla l'anagrafica e conferma. Senza interrompere il flusso di lavoro e senza doversi spostare dalla poltrona, il medico svolge la propria attività agendo direttamente ed esclusivamente sulla console full touch. Trasferimento immagini da full touch a chiavetta USB e viceversa. Entrare nel menu immagini e selezionare la memoria locale. Attivare funzioni speciali. Selezionare una o più cartelle. Premere il pulsante del trasferimento. Scegliere se copiare o spostare. Per l'operazione inversa. Selezionare dal menu la chiavetta USB e procedere in maniera analoga. In assenza del software IRIS, è altrettanto facile salvare le immagini su PC. Basta deselezionare la gestione delle immagini tramite IRIS ed impostare una nuova cartella di destinazione. Confermare il salvataggio su PC. Le immagini saranno trasferite al PC direttamente nella cartella di destinazione. Tutte le operazioni di gestione delle immagini sono possibili e perfettamente sincronizzate sui dispositivi collegati. Anthos. Integrazione e tecnologia del sistema multimediale.